Allora, rivelo qui a Torino una cosa che non ho mai detto e che mi vergogno anche un po' a dire, per cui mi raccomando usatela con discrezione, però se ci sono citate tante cose... Stai con il padramino? Sì! Ciro è tuo figlio! Il papà di Ciro! No, sono tante situazioni, però in realtà c'è un regista che è molto italiano, a cui ho pensato spesso, che è Federico Fellini di Otto e mezzo. In realtà, se ci ripensate, Otto e mezzo fa un lavoro sulla confusione tra cinema e realtà, finzione, personaggi che gli arrivano, che in qualche modo... Non sto dicendo che questo film è paragonabile neanche lontanamente a Otto e mezzo, però Sandra Milo mi faceva piacere averlo. È vero che un certo tipo di famiglie un po' nevrotiche, che però in qualche modo... Con i personaggi molto forti, divisi e che in qualche modo vanno avanti, sono presenti in particolare in Royal Tenenbaum. Wes Anderson ha fatto anche altri film, alcuni, secondo me, più riusciti di altri, a me non mi rimane un regista che mi piace, ne parlavo prima, c'è tutta questa nuova corrente di sceneggiatori americani che a me attrae molto da Kaufman, Angandrie... Grazie.